Per entusiasmare il popolo rosso-nero che vive un periodo negativo per via della squadra, del rendimento altarenante, dell'umore attorno al mister, eccetera, iniziamo a vedere i colpi. Primo colpo, il ritorno di Gabbia. Filippo, ti entusiasma questo ritorno oppure... No, passiamo oltre. No, vabbè, no, adesso scherzi a parte, non è per cattiveria nei confronti di Gabbia, era una cosa abbastanza telefonata, in senso che anche a Kier dovremmo mandare un messaggio alla famiglia di Portoglio, quindi era inevitabile che Gabbia sarebbe tornato. Mi torna Gabbione e, mentre per quanto riguarda la difesa, potrebbe saltare il buon Juan Miranda che sembrava quasi tutto fatto perché questioni economiche, eccetera, se ne parlerà al massimo l'anno prossimo che va in scadenza, eccetera, eccetera, così come potrebbe saltare il colpo del potenziale giocatore più forte della storia del Milan, cioè Popovic, e qui apro una piccola parentesi. Ma come non ha fatto Popovic? Eh, perché è una questione di extracomunitari, c'è il sito interessato che potrebbe prenderlo, eccetera. Maledizione. E vi dico una cosa, un piccolo aneddoto, io ho scritto un articolo su Popovic, un mesetto fa, non l'ho mai pubblicato perché aspettavo l'ufficialità, eccetera, sta saltando, per cui questo è un piccolo aneddoto veloce, una piccola parentesi che ci deviamo ad aprire. Uno di quegli articoli che rimarrà nel cassetto per sempre. No, è già online in realtà, se lo potete andare a vedere. No, che brutta propsata, mamma mia. Però ecco, detto questo, attenzione, perché se Juan Miranda potrebbe saltare, Filippo Terracciano, a proposito di Verona, potrebbe arrivare terzino classe 2003 del Verona. Si parla di 3, 4, 5 milioni, ancora le cifre non sono sicure. Anche qui, Filippo, cosa ne pensi? Adesso sarebbe un bel colpo. Ti piace? Chiaramente sarebbe una riserva, partirebbe come riserva. Può giocare sia a destra che a sinistra lui, per cui potrebbe essere sicuramente utile, però. No, sono contento, perché insomma quel poco che ho visto di Terracciano mi è sempre piaciuto. Poi anche leggendo commenti di gente per la quale provo enorme stima dal punto di vista calcistico, non hanno sempre parlato molto bene, quindi ben venga. Poi soprattutto per 4, 5 milioni, e che cosa saranno mai 4, 5 milioni oggigiorno, direttore? Non capisco queste ricerche per una punta, quando abbiamo una punta nella primavera. Allora, al di là del buon Luka Jovic c'è anche, volendo, la possibilità del buon Ciccio Camarda, che però non l'abbiamo più visto. Lasciamolo stare. Lasciamolo stare. Cioè, comunque, c'è un classe duri da otto, nel senso, arriverà, sono sicuro che arriverà, però con calma. Cioè, non abbiamo fretta. Terracciano che, se vogliamo fare due parole in più, è stato uno delle poche note positive del Verona di questa stagione, è Local Boy lui peraltro, è interessante, chiaramente dato via, così come potrebbero dare via, come hanno già dato via altri giocatori e come potrebbero darne via altri. E allora ci domandiamo, caro Setti, quali sono le tue intenzioni? E mi sa che l'intenzione... Attendo mezza squadra. L'intenzione è quello dello smantellamento totale, per cui il Verona, che aveva iniziato a tirare fuori la testa con dei risultati anche importanti, dei punti che aveva strappato, delle big, pareggini, così è l'ultima vittoria fatta recentemente. Adesso si ritrova in una situazione per cui, probabilmente, è una delle candidate principi alla retrocessione. Insomma, diciamo che sono, come si diceva anche prima in chat, sono tre anni che la situazione è questa, praticamente. Oh no! Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ah, ok, ok, c'è, meno male, meno male. Era una gang, era tutta una gang. Sì, sì, era un piccolo scherzo, ma in realtà l'intercettazione di Setti... No, pare che oltre ai punti di Setti abbiano bloccato anche internet e direttore. Esatto. E, perché ad una secondaria è finanziata dal Verona. Sì, esatto. No, è un discorso molto semplice. Stavo dicendo, pare che stamattina ci sono delle indiscrezioni secondo le quali anche in gong sarebbe in procinto di lasciare, per cui vediamo, poi chiaramente vediamo come effettivamente si sviluppano le situazioni, eventuali rimpiazzi, però ecco, il Verona mi sa che i tifosi del Verona possono iniziare a farsi il segno della croce e è buona Ugo, come direbbero a Livorno. Io Terracciano l'ho visto giocare la prima volta, non lo conoscevo, allo Stadium contro la Juventus e esordì, o meglio, esordì insomma in quella partita, non intendo dire in campionato perché aveva già giocato precedentemente, con un'ottima azione colpendo anche il palo, se non sbaglio, dal limite dell'area, insomma, rientrando. Credo di sinistra. Mi diede già lì una buona impressione, però pensavo fosse uno di quei calciatori poco utilizzati. Poi, vedendo insomma l'inizio della stagione e anche la quantità di minuti, diciamo, fatte in campo, l'ho visto giocare contro la Serenitana, ma anche in altre partite, mi ha colpito in positivo e ricordavo che quella, appunto, diciamo, azione che mi aveva entusiasmato contro, diciamo, quell'ingresso contro la Juventus fosse effettivamente avallato, diciamo, e avesse avuto continuità poi nelle restazioni successive. Da quel poco che ho visto è un giocatore che mi entusiasma perché, appunto, sembra veramente bravo e quadrato, conciso, insomma, quindi, secondo me, questa cifra, due, tre, quattro, cinque milioni, insomma, quella range lì può essere un buon giocatore. Con margini di crescita ampi è un 2003, quindi comunque ha vent'anni, e poi è comunque italiano, quindi, diciamo, ben bene, insomma, da questo punto di vista. Sì, e poi è il discorso che facciamo sempre, anche se ti va male come investimento, sono investimenti sui quali... Hai un'immagine su cui puoi venderlo, che è comunque più ampio o lo stesso. Sì, costi anni bassissimi, stipendio bassissimo, cioè, sono investimenti solo positivi e che, alla fine, se ti va bene, ti ritrovi un giocatore utile e che, con il quale puoi potenzialmente fare una plusvalenza nell'ottica di una cessione. Se ti va male, spendi pochi milioni l'anno e... Aggiungo che il Verona, tra l'altro, ha venduto anche un GLA al Granada ed è, diciamo, in partenza anche Doig, quindi, insomma, vediamo che se c'era... L'unico che non ha andato è Faraoni. Sì, Faraoni che, peraltro, è morto dopo notizie del fatto che sia vivo. Sono arrivate... Vabbè, volevo fare una battuta sul fatto che abbia simulato con la Juve, ma mi è uscita male. E quindi questo è il discorso. Questo è un po' il discorso. Per cui, approvato Terracciano, Gabbia, per utilità, però... Gabbia non mi ha mentesusiasmato, devo dirvi la verità. Per cui, non so... Cioè, perché altro è proprio una cosa... È un po' una mossa della disperazione, Gabbia, dato dagli infortuni. Più che della disperazione direi perché sai che ha costo zero, comunque conosci l'ambiente, sai che potrebbe fare dei danni, ma non dei danni così incalcolabili, e quindi... Però questo non direi che Gabbia sarà il titolare, perché la stazione... Ma, penso, no, sicuramente sì, sicuramente sì. Cioè, non so se già contro l'Empoli giocherà dal primo minuto, però sì. Cioè, finché non torna uno tratto Mori-Ciao, fa il titolare. Però, anche il fatto che il VIA Real te lo abbia ridato senza fare troppi... troppe problematiche... No, ma sta giocando poco anche al VIA Real, eh? Eh. Sta giocando anche poco al VIA Real.